Inizialmente, consiglio di informare proprio al nostro consiglio comunale. Esprimo personalmente e non alla distrazione comunale di sua parola, un primo augurio che è una pronta religione, sicuro di che il proprio testo, cioè il concetto delle sue funzioni, o la funzionale di progressità, con la denza, e la caccia. Non è più da sapere di quello che è successo e non è più di ripetere. Passiamo.